Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Molestie sessuali da Harvey Weinstein al caso Westminster al mondo politico italiano ovattato ma molto più perverso che altrove. La teoria di Raffaele Morelli, notissimo psicoterapeuta, è che in ogni donna c'è una prostituta e che questa naturale condizione concorre ad alimentare l'obiettivo del molestatore che è quello di umiliare la vittima e vederla sottomessa. Che dire? Se Morelli allargasse il campo delle indagini all'Irpinia scoprirebbe che la sua teoria è un'emerita stronzata. Qui infatti le prostitute non si annidano nelle donne molestate dai politici ma in quelle favorite dai politici.